Ciao a tutti, solo gli amori impossibili non finiscono mai. In questo video voglio spiegarti perché soltanto gli amori non corrisposti, soltanto gli amori cosiddetti impossibili non finiscono mai. Non finiscono mai perché rappresentano l'ideale, l'ideale non realizzato, l'ideale che continua a vivere dentro di noi. Possono essere alimentati per sempre, soltanto quando non siamo corrisposti per diversi motivi, perché magari una persona è già impegnata o perché è ad altro per la testa o perché non vuole, per un motivo o per l'altro, non importa qualunque sia il motivo, non vuole impegnarsi con noi, allora quell'amore resterà per sempre, resterà per sempre nella nostra mente. Sarà un qualcosa di non completamente, di non realizzato, non soddisfatto e quindi rimarrà sempre vivo il desiderio. Ci sono persone che muoiono portandosi dietro questo desiderio non realizzato. Tutti gli altri amori, quelli che in qualche modo si concretizzano in una relazione, tendono a finire, tendono a cambiare, tendono ad avere a che fare con la realtà. Perché l'amore impossibile resta in una dimensione immaginativa, resta in una dimensione ideale, non entra mai in contatto con la realtà. Ed è per questo motivo che resta immutabile, perché tutto ciò che interagisce con la realtà cambia e si trasforma. Invece, quello che resta, diciamo, su una dimensione di idea, su una dimensione di pensiero, resta immutabile. Ed è quello che anche nel buddismo vengono chiamati eventi permanenti o fatti permanenti. Tutto quello che interagisce, che entra a far parte con la realtà, invece diventa permanente, impermanente. E quindi cambia, si trasforma e per forza prima o poi finisce. Quindi se vuoi che veramente un amore duri per sempre, non devi realizzarlo, non devi farlo diventare reale. Altrimenti finirà. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale YouTube Massimo Terramasco. E ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, scegliendo diversi livelli di abbonamento. Però seguimi anche sugli altri canali, felicità, benessere, amore, autostima. E attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video.